Circa 10.000 persone, tra anziani e categorie fragili, si sono prenotate per il vaccino contro il Covid-19 e la prima proiezione che arriva dagli addetti ai lavori a due settimane dalla scadenza della proroga accordata dalla Regione per la prenotazione sulla piattaforma digitale. Intanto comincia a prendere corpo il piano della vaccinazione degli anziani e dei disabili che potrebbe partire dalla prossima settimana, ovvero da lunedì 22 febbraio, salvo novità dell'ultimo minuto. L'ASL, infatti, come aveva annunciato il direttore UOC Sies, Perrico Gianzante, sta definendo l'individuazione delle strutture dove inoculare le dosi. Sarebbero almeno 5 le sedie a disposizione, grazie alla collaborazione fornita dai comuni, di cui 3 in Vale Peligna, 2 in Alto Sangro. Si punta a inoculare 350 dosi al giorno, 250 nell'area Peligna, 100 in quella sangrina, per completare la campagna vaccinale tra prima dose e richiamo entro il mese di maggio. Proprio in queste ore starà approntato il cronoprogramma che resta condizionato, però alla fornitura costante delle dosi, il grande problema di questa terza ondata è il rinforzo di personale che quasi sicuramente arriverà dal bando della protezione civile. Per la vaccinazione a domicilio al momento c'è ancora da aspettare. Nei prossimi giorni si conosceranno nel dettaglio i riferimenti specifici riguardo le strutture e le modalità di inoculazione. Intanto coloro che ancora non hanno provveduto possono prenotarsi sulla piattaforma digitale e chiedere aiuto in caso di bisogno al COC di Sulmona, ovvero al numero 335-12-39-074, da lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Servirà codice fiscale, numero di tessera sanitaria, codice di esenzione per le categorie fragili. sarà poi la ASL1 a contattare gli utenti successivamente.